Un encomio al custode del cimitero di Pescara Colli, questa è la proposta del capogruppo dell'Udc del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli. Il giorno di Natale, giornata di lavoro, c'è stato il crollo del cancello del cimitero dei Colli e questo custode è riuscito ad allertare e a far allontanare in tempo due persone prima che il cancello crollasse. Custode che è rimasto ferito. Sì, le cronache portano questo, i testimoni dicono questo, il custode, il signor Manzo si è immolato per salvare degli anziani che altrimenti avrebbero potuto avere delle conseguenze abbastanza importanti dal punto di vista fisico. Quindi è un riconoscimento che l'amministrazione sicuramente darà nei prossimi giorni a una persona che sta lavorando e che poteva anche stare lì fermo e vedere cosa accadeva, invece il senso di altruismo anche nei confronti della persona che io conosco bene è come una persona di cuore, da sempre disponibile per tutti, soprattutto in un ambiente dove lavorano voi che è quello del cimitero dove arrivano salve, dove arrivano problematiche, dolore e quant'altro. Beh, è conosciuto ormai da tutti il signor Manzo come una persona disponibile anche nel risolvere le problematiche di qualsiasi giorno. Quindi è giusto che l'amministrazione, questo sicuramente lo farà, nelle prossime settimane come il signor Manzo avrà riacquistato tutte le sue forze e capacità, verrà insignito di questo riconoscimento che l'amministrazione ovviamente gli farà come dono. Signor Manzo, lei porta ancora visibili segni di quello che è accaduto quel giorno, il crollo di questo cancello in ferro pesantissimo del cimitero. Lei, possiamo dire senza esagerare, ha rischiato la vita. Sì, è vero, però l'ho fatto, è stato l'istinto, il mio lavoro che mi porta, che amo il mio lavoro, lo faccio da 13 anni, è stata tutta una conseguenza che comunque dobbiamo ringraziare come è andata, poteva andare peggio. Vogliamo ricordare che lei è stato colpito da questo cancello che è caduto, però è riuscito a gettare un urlo e a far allontanare delle persone che erano nei pressi. Sì, erano queste due persone di cui la conosco, la signora, sono riuscito a trattenere il cancello, quel poco che ho potuto, per far allontanare, dopodiché sono andato dietro anche io al cancello. Lei è soddisfatto comunque per questa iniziativa del capogruppo dell'Udc Pignoli? Io ringrazio il dottor Pignoli che veramente non mi ha mai fatto mancare il sostegno, è subito intervenuto venendomi a trovare all'ospedale, mi ha sempre chiamato, si è sempre interessato in qualunque cosa, come adesso e lo ringrazio di cuore, è una persona veramente eccezionale.